La conferenza dei servizi concede l'autorizzazione sulle missioni alla banchina 23 con l'obbligo delle prescrizioni contro la dispersione delle polveri. Scontro frontale ieri sera a Cerveteri tra Via Zambra e Via del Sasso, morto l'attore Giuliano Gelma si stava recando a Civitavecchia per trascorrere una serata tra amici. Il Civitavecchia calcio vince 2-0 a Canino nell'andata del turno preliminare di Coppa Italia di eccellenza grazie alla doppietta di Romagnoli. Buonasera, ben trovati dal Tg Alto Lazio. Summit ha improvvisato questa mattina alle colline dell'Argento dove il sindaco Pietro Tidei ha ricevuto una delegazione di SEL per cercare di smorzare i toni della polemica nata sulla delibera sui talcementi e giungere a un compromesso. Insieme, ha spiegato il primo cittadino, abbiamo deciso di far lavorare insieme tutti i partiti per cercare di chiudere un accordo sui talcementi entro l'8 ottobre. Ma sentiamo i particolari in questa intervista al sindaco Pietro Tidei. Io ho parlato chiaro come credo che abbiano parlato i rappresentanti di SEL. Quello che noi vogliamo è chiarezza definitiva. Non tollero più, non tollero più e loro dico che chiunque della mia maggioranza ogni giorno spari sul sindaco, spari su questa amministrazione dicendo anche cose poco gradevoli e poi il giorno dopo arrivano gli imbonitori a dire vabbè ma non è successo niente. Allora, questo giochetto al massacro non mi piace. Dopo 43 anni di politica attiva, io ritengo che sono venuto a Ciaecchia per migliorare radicalmente questa città come ho fatto nel periodo 94-2001. La migliorerò. C'è un programma, c'è una giunta, c'è un sindaco che lavora per migliorare le cose. Se c'è qualcuno che vuol frenare, che è insoddisfatto o qualcuno che aspira a fare qualcosa di meglio io credo che la cosa che può fare è andarsene. Non è che ogni giorno bisogna stare a minacciare. Le minacce non servono più. Chi vuole andare via perché non è contento se ne va. Chi invece vuole stare dentro con questa formula di governo che è quella che è uscita vincitrice dall'elezione può rimanerci. Si stabiliscono metodi e percorsi nuova volta, si resetta il nostro modo di agire e dopodiché però una volta deciso non è che ci si può ripensare. Ripensare non è consentito da nessuno. L'amministrazione bisogna andare avanti perché bisogna fare un'opera di riqualificazione e di risanamento a cominciare i tarciamenti ma soprattutto bisogna cominciare a mettere in piedi i grandi progetti che portano lavoro e sviluppo in una città che è massacrata da una parte dall'inquinamento ma soprattutto dalla disoccupazione e dal sottosviluppo. C'è la questione termo, la questione social housing dove devono partire centinaia di appartamenti che sono ancora fermi. C'è la questione di tarciamenti, c'è la questione Elena, c'è la questione anche della variante 31 che sono tutte le zone compromesse che ritireremo fuori. Sono tutte questioni che oggi hanno bisogno di una rapida decisione e non tempo per discussioni inutili che non servono a niente ma solo per stare sul giornale il giorno dopo. A me di stare sul giornale non interessa, interessa fare le cose, farle bene e farle rapide. Questa è la linea. Sulle larghe intese invece si è parlato di una possibile alleanza di De Moscherini? Si è parlato da chi? Non da me. Si è parlato da Luciani e da Moscherini. Per quanto mi riguarda non ne ho mai parlato. Io se si dovesse aprire una nuova fase se ne deve chiudere una prima. Quella prima non si è chiusa e quindi quella nuova non si è aperta. Il Partito Democratico torna ad intervenire sul caso Italcementi richiamando ancora una volta all'ordine i suoi e la maggioranza. La politica deve andare avanti dritta e veloce e non è più tollerato che invece di spingere sull'acceleratore dell'azione responsabile di governo tira il freno a mano. Non è più tollerabile chi parla al vento. L'azione di governo ha bisogno di rapide sintesi e non di sconnesse parole. E chi governa questa città insieme al PD deve mettersi in testa che tutte le difficoltà si devono tradurre in provvedimenti risolutivi e celeri. Ogni problematica deve portare a una sintesi. Nessuno si può permettere più il lusso incosciente di temporeggiare o rimandare, soprattutto se le motivazioni sono giochi di potere e l'interesse privato lontani dal bene comune dei cittadini. E i Democrat ribadiscono che stare al governo significa prendere decisioni e non rimandare. La demolizione dell'ecomostro porta al comune la possibilità di disporre di 100.000 m3 per riqualificare insieme ad estese aree da destinare al verde e a un vero e proprio parco. Niente che sia più di sinistra, niente che sia più ecologico. La provincia di Roma ha concesso l'autorizzazione alle operazioni di carico e scarico del ferrocromo alla Traiana. Per ora però l'ok è solo verbale. Domani dovrebbe arrivare quello scritto. Dopodiché la società chiederà il dissequestro dell'area deciso dalla Procura. Sentiamo il servizio. La conferenza dei servizi che si è tenuta oggi alla provincia ha approvato la concessione dell'autorizzazione alla Traiana per il carico, scarico e movimentazione del ferrocromo. Il via libera però per ora è solo verbale, ma già domani potrebbe arrivare quello messo nero su bianco e che dovrebbe risolvere la vicenda che ha portato al sequestro da parte della Procura dell'area dove appunto opera l'impresa. Concessione che però, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei servizi di Palazzo Valentini, è legata ad alcune prescrizioni ben precise, come per esempio la realizzazione di una sorta di recensione intorno alla zona dove viene scaricato il ferrocromo e la costante irrigazione dei cumuli. Il tutto per evitare la dispersione delle polveri che, secondo quanto scritto dal GIP nell'ordinanza di sequestro, sono altamente pericolose per la salute. Intanto, il procuratore Gianfranco Amendola, titolare dell'indagine, ha concesso alla ditta di poter iniziare l'installazione dei pannelli di protezione, accogliendo la richiesta avanzata questa mattina dai legali della Traiana, gli avvocati Luigi Benni e Andrea Miroli. A controllare che questa installazione venga eseguita a regola d'arte, sarà la Guardia Forestale, su delega della stessa magistratura inquirente. Intanto, sul versante relativo alle altre tre ditte indagate per lo scarico di altro materiale polveroso, come deciso oggi insieme al procuratore, il presidente dell'autorità Pasqualino Monti ha intimato per iscritto alle stesse società di non poter eseguire operazioni di carico e scarico fino a che non avranno anch'esse la stessa autorizzazione. Verso in gravi condizioni, Iuri Pierotti, il trentenne Civitavecchiese è rimasto coinvolto questa mattina in un brutto incidente frontale nei pressi di Avezzano. Il giovane dipendente dell'autorità portuale, molto conosciuto in città, viaggiava in direzione dell'Aquila, quando per causa in corso di accertamento la sua auto si è scontrata frontalmente con un camion. Dal violento urto, Pierotti avrebbe riportato ferite ad una gamba e ad un braccio, ma a preoccupare i medici dell'ospedale dell'Aquila, dove è stato trasportato d'urgenza, è un grosso ematoma al cranio, per il quale è stato messo in coma farmacologico. L'aumento dell'IVA mette in crisi il commercio, Tullio non si richiama ai politici, alle loro responsabilità, parlando di una scelta scellerata, che non tiene conto delle conseguenze. L'esponente della Conf Commercio rincala la dose, l'aumento dell'IVA dal 21 al 22%, comporterà un aggravio di 200 euro per famiglia. Sentiamo il servizio. Il sistema economico civide vecchiesi, in particolare del commercio al dettaglio, già provato da un calo dei consumi, viene sottoposto a una pressione che faticherà a reggere. Ne è convinto Tullio Nunzi, che interviene sul recente aumento della liquida IVA dal 21 al 22%. Andate a vedere Corso Centocelle, afferma, scoprirete come rispetto agli ultimi anni siano spariti negozi storici con un turnover incredibile, con uno sconvolgimento del panorama commerciale e con ulteriori rischi di chiusura. Secondo l'esponente della Conf Commercio, sarebbe tutta colpa di una politica alla deriva, fatta, dichiara, di ricatti e scelte scelerate e irresponsabili. E rincara la dose, l'aumento dell'IVA comporterà un aggravio di 200 euro per famiglia, spiega, penalizzando quelle a basso reddito, inaspirerà una imposizione grave per le aziende, anziché incidere nell'abbattimento della spesa pubblica e determinerà una serie di oneri e aggiornamenti per l'adeguamento. A ciò si aggiunga, prosegue Nunzi, che l'aumento di un punto dell'IVA riguarderà fornitori, servizi e energia che si scaricherà sulle aziende del settore. Una scelta scelerata, conclude, spero che gli eletti locali faranno del tutto per fare in modo che decisioni di questo tipo possano essere modificate e spero che a livello dell'amministrazione locale si tenga conto che le aziende del terziario e dei servizi sono ormai alla canna del gas e si comportino di conseguenza. Nuova interruzione idrica domani nella zona nord della città a causa di lavori sulla condotta di medio tirreno in località Fontana Matta a Tarquinia. Il flusso idrico sarà interrotto dalle 8 fino alla fine dei lavori che, salvo imprevisti, dovrebbero ultimarsi nella stessa mattinata. Le utenze cittadine interessate dall'interruzione saranno Borgata Aurelia, Agricasa, Carcere Aurelia, Zona Ente Maremma, Pantano, Sant'Agostino, La Scaglia, Enel, Area Portuale, e Zona Industriale, Cimitero Vecchio, Via Tarquinia, Centro Storico, Zona Bassa della Città, Punton dei Rocchi, Santa Lucia, Cimitero Nuovo. Una storia lunga, 170 anni, quella del Teatro Comunale Traiano, pronto a festeggiare alla grande questa importante ricorrenza. E lo farà anche agevolando i più giovani e proponendo loro abbonamenti a prezzi ridotti. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico, Pino Quartullo. Sentiamo il servizio. Il Teatro Traiano compie 170 anni, lo vediamo appunto da questo giornalino, e come si festeggerà questo grande evento? Andando a teatro, naturalmente, abbiamo voluto fare questo giornale ispirandoci a quel manifesto che è nella hall del teatro, che è originale del 1844, un manifesto che è stato regalato da Carlo De Paulis, grande scrittore storico di Civitavecchia, alla fine delle 82 giornate, quell'evento organizzato con la Fondazione Caricif. Ecco, Carlo De Paulis me lo donò e lo abbiamo attaccato dentro il teatro. Quindi chiunque verrà al teatro potrà leggere cosa veniva programmato 170 anni fa. Un cartellone appunto ricco di grandi nomi è un cartellone comunque vario. Certo, quest'anno abbiamo mantenuto essenzialmente la suddivisione degli scorsi anni, ossia la grande prosa con 11 spettacoli per tre turni, a teatro con mamma e papà sempre quattro spettacoli, però soltanto la domenica pomeriggio, e poi Traiano Riddens quattro spettacoli. Il Traiano Riddens è gli spettacoli appunto comici, che saranno di Ficarra e Picone, Cochia Renato, Rocco Papaleo e Max Tortora, si potranno acquistare singolarmente e anche gli abbonati, quando faranno l'abbonamento, potranno già acquistare i biglietti prima della pre-vendita. Parlando invece della grande stagione che non mi possiamo trovare. Devo dire che quest'anno è una stagione straordinaria perché abbiamo dei grandi attori di cinema, giovani, che fanno teatro, che vanno da Fiorello, a Valeria Mastrandrea, Zingaretti, Filippo Timi, ma tantissimi altri, Salemme, Bucci Rosso, Anna Galiena, quindi un grandissimo parco attori di cinema che fanno teatro. E poi, devo dire, ci siamo interrogati spesso sul perché così pochi giovani, i ventenni, i trentenni, vadano a teatro. La risposta è da quasi sempre che un ragazzo non può permettersi un abbonamento. E quindi abbiamo pensato di istituire degli abbonamenti super scontati agli Under 25 per la grande stagione, quindi a 11 spettacoli, per 33 euro. Quindi 3 euro a spettacolo. Credo che mi sembra un ottimo aiuto per aiutare appunto chi vuole avvicinarsi al teatro, non l'ha mai fatto. e poi con quell'abbonamento si hanno notevoli agevolazioni perché abbonandosi alla grande stagione si hanno degli sconti e priorità di scelta di posto sugli altri abbonamenti e anche uno sconto alla Multisala Royal, delle visite guidate archeologiche, gratuite, quindi insomma, conviene abbonarsi che è meglio. Ecco, la campagna abbonamenti è già iniziata? Sì, si stanno riconfermando i vecchi abbonati e dal 23 ottobre ci si può abbonare e fare nuovi abbonamenti. La comunità educante e gli educatori nella comunità. Questo è il titolo del convegno che avrà luogo il 3 e il 4 ottobre al Teatro dei Salesiani, Sala Buonarroti a Civitavecchia. Ad aprire i lavori ci penserà il Vescovo Mariano Crociata, segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Il presule affronterà il tema scelto dalla Diocesi alla luce del documento educare la vita buona del Vangelo. Il 4 ottobre il convegno si concluderà con la celebrazione eucaristica in onore di San Francesco d'Assisi nella cattedrale di Civitavecchia dedicata al Santo che il Vescovo Luigi Marrucci presiderà con inizio alle 18.30. Adora un piccolo spazio pubblicitario tra poco con l'informazione del comprensorio.